Nicola Baiocchi, Presidente Commissione Sanità della Regione Marche. Tra i tanti progetti in cui il Comune di Pesaro lavora a braccetto con la Regione Marche c'è quello della riqualificazione del San Benedetto. Un progetto complesso su cui ci si muove in due direttrici. Il Comune recentemente ha dato approvazione dell'area di sua competenza per l'acquisizione da AST e aspetta, perlomeno a parole e comunque anche degli assessori, una mossa dalla Regione Marche sull'area di propria competenza. Qual è la situazione in questo senso? La situazione è semplice. Intanto è bene ricordare che se non ci fosse stato un interessamento da parte della Regione Marche il Comune di Pesaro non avrebbe mai potuto intercettare Bando Pinco. Quindi benissimo, un esempio ottimo di collaborazione tra enti come dovrebbe in realtà essere. Adesso il Comune ha fatto giustamente i suoi passi legati anche ai fondi Pinco e quindi con le scadenze che ci sono all'interno di questi fonti di finanziamento. Adesso la Regione sta facendo delle valutazioni in quanto trattaci di un investimento grossissimo e quindi è giusto che l'AST, il Direttore Generale, faccia tutte le opportune valutazioni anche in riferimento alla dismissione del vecchio ospedale San Salvatore che verrà con la costruzione del nuovo. Quindi si stanno valutando in maniera molto celere altre soluzioni ma ricordo che ancora deve venire il rogito tra il Comune di Pesaro e la Regione Marche, in questo caso all'AST, per il passaggio di alcune proprietà e di conseguenze di soldi verso la Regione. Quindi questo può essere sicuramente il momento iniziale e propedeutico a una progettazione da parte della Regione. Quindi siamo assolutamente fiduciosi. La Regione quello che promette fa a differenza di quello che sostengono in tanti. Quindi promessa che va in linea a un rispetto anche della scadenza prefissata per non perdere questi fondi? La scadenza per i fondi è legata alla parte che riguarda il Comune. La Regione non ha vincoli legati alle tempistiche del Comune, però è chiaramente intenzione di questa amministrazione di trovare una soluzione quanto prima che sia assolutamente in linea con i lavori che il Comune sta facendo.